Noi amiamo fare festa, vi faccio vedere qualche immagine delle nostre feste, guardate Vignola quando ha voglia di fare festa si colora, di personaggi, di musicisti, tanta musica, noi amiamo moltissimo la musica, musicisti per le strade. Adesso che siamo in un momento in cui le città, i paesi sono vuoti, ripensare a questi momenti di festa è da un lato un momento un po' triste, ma dall'altro è quello che ci sprona a superare questo momento difficile perché sappiamo che torneranno i giorni di festa.